Il divieto di sosta annunciava per questa mattina, mercoledì 4 maggio dalle 9 alle 11, il diserbo a Viale Aldomoro a Torre del Greco, sul lato destro della strada, salendo dall'incrocio di Corso Vittorio Emanuele. Una notizia ben accolta dai residenti e da quanti frequentano la zona, dopo la denuncia di TV City nei giorni scorsi. Una situazione analoga a molte altre strade e zone della città, dal centro alla periferia, che si protrae ormai da mesi. Tante infatti le segnalazioni e le lamentele giunte alla nostra redazione. Il diserbo tuttavia sembrerebbe solo annunciato. Alle ore 10 di questa mattina infatti, stando alle immagini delle nostre telecamere, erano poche le auto in sosta, ma sempre le stesse, le erbacce, presenti sul marciapiede, diventato ormai impraticabile. Ritardi attese per la risoluzione di una problematica sul territorio, con non pochi disagi per i cittadini.